Come tutti sapete la Giunta regionale affronta questo tema con un impegno molto forte, abbiamo messo in campo oltre 40 milioni di euro per la realizzazione della pista ciclopedonale che va da Martinsicura a San Salvo, 19 comuni, 3 province, oltre 40 milioni di euro di investimenti. È un progetto strategico della nostra Giunta perché pensiamo che la bici, il turismo in bici, la mobilità sostenibile siano strumenti assolutamente di promozione turistica e non solo, anche e soprattutto dal punto di vista economico. Qual è l'importanza di questo progetto Trabocchi in Bike? Il giorno in cui questa via verde costa dei Trabocchi dovesse essere realizzata e Trabocchi in Bike è una nuova serie di talenti e territori che punta a riportare l'attenzione su questo progetto, la via verde sarà una grande opportunità per l'Abruzzo, non solamente per la costa dei Trabocchi. Perché un modo di nuovo potrebbe essere di raccontare quel territorio, un modo inedito che se dovesse funzionare potrebbe diventare un moderno Grand Tour che nel XVII secolo ha portato il meglio dell'Europa in Italia e quindi ci auguriamo che anche questa volta possa succedere un miracolo del genere.